Ciao a tutti, oggi prepareremo i budini al latte di riso con salsa di fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Ingredienti sono latte di riso, zucchero e amido di mais e aroma di vaniglia. Per la salsa le fragole, zucchero, fragole e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando i budini. Mettiamo all'interno del boccale il latte di riso. Lo zucchero, l'aroma di vaniglia e l'amido di mais. ed azioniamo i bimbi per 9 minuti, 90 gradi, velocità a 4. Il composto è pronto, versiamolo in stampi in monoporzione e riponiamo in frigo per almeno 3-4 ore. Riporre in frigo per almeno 3-4 ore. Prepariamo adesso la salsa di fragole. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il bimbi per 10 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo di limone. ed azioniamo il bimbi per 7 minuti, 80 gradi, velocità a 4. La salsa è pronta, trasferirla in un contenitore e lasciare raffreddare completamente. Budini al latte di riso con salsa di fragole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!